ok ragazzi ci siamo siamo pronti per iniziare ho parlato 5 minuti da solo perché mi ero dimenticato di attivare la trasmissione ora dovreste sentirmi quindi se mi sentite se vedete stiamo per iniziare cortesemente mandatemi un ok in chat così si parte vedo l'ok di Augusto saluto G3 saluto Lexi, Mirko, Emilio Sonia, Giuseppe, Caterina e tutti gli amici che si sono collegati già in precedenza in chat Comazawa, Aldo ciao Aldo, Aldo e Michele sono i nostri operatori ok siamo pronti per cominciare eccoci ciao a tutti bentornati sul canale Youtube di Associazione Culturale Maggiolina oggi è mercoledì 15 aprile sono le 18 e siamo in diretta sapete che in questo periodo siamo in diretta tutti i giorni per farci reciproca compagnia parlando di computer oggi come avete visto dalla copertina vediamo se riesco a mostrarla anche qui alle mie spalle eccola qua parliamo di Whatsapp torniamo a parlare di Whatsapp e specificatamente vogliamo concentrarci sul backup e il ripristino delle chat delle nostre conversazioni perché è una cosa che mi chiedete tantissimo ed è una cosa che quando capita di perdere le chat crea un sacco di problemi a tante persone quindi ragioniamoci un attimo anche se lì per lì può sembrare che le persone non siano interessate a salvare i loro messaggi poi quando è ora invece lo sono lo sono parecchio ciao Augusto e grazie infinite per il super sticker grazie ne trovi sempre sempre di nuovi grazie mille allora torno a visualizzare la chat e ci siamo prima di partire con quello voglio dare una risposta veloce a un amico che si è collegato presto in chat e mi ha fatto una domanda alla quale ho già risposto ma voglio che ne parliamo tutti quanti insieme grazie Orazia per l'uso della super chat grazie infinite mi sentite spesso dire che faccio lo speed test questa sera sono collegato con una linea telefonica diversa dal solito perché sapete che ormai siamo a corto di gigabyte in queste situazioni di collegamenti moltipli e quindi faccio spesso lo speed test per testare la velocità della linea e l'amico mi chiede ma consumano tanto questi speed test in termini di gigabyte perché se ho un consumo devo fare economia nel fare questi speed test no in realtà no vado su google io faccio questo speed test allora ho fatto la ricerca speed test non l'ho dovuta scrivere perché appunto la faccio spesso eccolo qua controlla la tua velocità di connessione in meno di 30 secondi di norma il test trasferisce meno di 40 megabyte di dati ma potrebbe trasferirne di più in caso di connessione veloce pochissimo quindi fare lo speed test incide un nulla sulla tua capacità di gigabyte fermo restando che lo speed test lo si fa anche con linea fissa quindi a dati illimitati per rendersi conto di come sta andando la connessione ok chiusa parentesi in tal senso andiamo a parlare allora di whatsapp backup ripristino e tutto quello che c'è da dire di queste cose quindi ringrazio Uccio per l'uso della super chat grazie infinite ragazzi per noi super chat super sticker abbonamenti e tutti gli altri modi che trovate per sostenerci sono importantissimi grazie e grazie infinite allora disegno la riga in chat cosicché da questa riga in avanti poi andiamo a rispondere alle domande che ci saranno meglio se sull'argomento in questione ma poi spaziamo un po' su tutto allora whatsapp innanzitutto devo mostrarvi il mio telefono allora vado a prendere l'applicazione visor che è quella che utilizzo per mostrare il mio telefono sullo schermo del computer questa è l'applicazione il telefono è collegato dico view cioè fammelo vedere ed ecco qua il telefono adesso vediamo come si carica eccolo qua lo metto da questa parte così abbiamo spazio e questo lo togliamo resta tutto da una parte ma poi qui lo riempiremo con l'altro allora questo è il mio whatsapp il mio personale non scrivetemi possibilmente in questo momento perché non voglio far vedere per una questione di privacy i contatti quindi i vostri numeri e quant'altro allora qui ci sono già dei contatti questi sono miei familiari quindi contatti delle chat per cui delle chiacchierate che io ho fatto con queste persone ho una chat as maggiolina esperimento che è fatta in modo per poter fare queste prove quindi questa la posso aprire ecco che l'ho aperta e mi sono mandato delle cose ho mandato io un messaggio ho ricevuto quindi mi hanno risposto poi mi hanno inviato un vocale vediamo se si sente provo anche a inviarti un messaggio vocale così vediamo come ti trovi perfetto penso che lo abbiate sentito poi foto e video attenzione che foto e video vedete che sono sfocate perché io ho chiesto al mio whatsapp di non scaricarle automaticamente perché se queste foto vengono scaricate automaticamente automaticamente riempiono la memoria del mio telefono e io non voglio perché ricevo tantissimi messaggi e tanti messaggi sono semplicemente cuoricini buongiorno eccetera che ricevo con grande piacere però mi riempio tutto quanto il telefono per cui io voglio che il mio telefono fermi le foto se poi le voglio vedere e quindi voglio usufruirne ci clicco sopra e la foto viene scaricata ecco ora si la vedo posso cliccarci sopra vederla per intero eccetera e ora questa foto occupa spazio nel mio telefono lo stesso dicasi per il video anche questo video lo scarichiamo perché poi ci servirà ecco il video che è stato scaricato e ora mostra le cose riduco un attimo la schermata per saltare la pubblicità dell'applicativo perché non so mai che tipo di pubblicità esca altrimenti non mi dà fastidio vedere la pubblicità eccola eccolo qua e adesso torno indietro quindi fino a qua ci siamo torniamo indietro per andare nelle impostazioni della chat e rivediamo velocemente dov'è che io fermo le immagini nelle impostazioni quindi nei tre pallini impostazioni direi e direi chat proviamo a andare a vedere chat allora vediamo un po' se c'è qualcosa dimensioni carattere visibilità dei media no tasto di invio backup delle chat no non è qua allora sarà in dati utilizzo dati e archiviazione cioè utilizzo dei dati internet e archiviazione sul telefono premo e io ho fermato qui quando download è questa la voce download automatico dei media video e foto quando sono col cellulare con la rete mobile non scaricare nulla quando sono col wifi non scaricare nulla quando sono in roaming cioè fuori dalla mia rete mobile non scaricare nulla nessun media quindi questo sempre disattivato perché scaricare quando siamo in roaming consuma troppi dati quando sono tramite wifi potrei attivarlo e quindi scaricare le foto scaricare gli audio video documenti potrei però e quindi non fa nulla arrivano però riempio il mio telefono e quindi gestiamo questa cosa io preferisco dire nessuno e se mai li tocco quando individuo di cosa si tratta li tocco lo guardo e poi eventualmente lo cancello se non mi serve più chiusa parentesi adesso andiamo sul discorso chat ripartiamo da capo siamo in whatsapp schermata principale delle chat voglio salvare le chat in funzione di un possibile ripristino delle stesse rompo il telefono cambio il telefono tolgo whatsapp io le rivoglio queste chat quindi mi serve che siano salvate due possibilità allora tre pallini impostazioni allora vediamo un po' direi chat provo non mi ricordo mai questa cosa qui chat eccolo qua si chat stiamo parlando della chat della chiacchierata qui c'è backup delle chat premo cosa vuol dire backup delle chat salvataggio copia di sicurezza di salvataggio delle mie conversazioni in genere un backup per essere come dire per occupare poco spazio comprime tutte le informazioni e il backup così come è riconosciuto da questo termine in passato ma ancora oggi in tante situazioni è un archivio che non posso guardare così cioè se io lo apro con un computer o con il telefono non lo vedo non ne vedo il contenuto serve l'applicazione che l'ha generato e quindi in questo caso Whatsapp allora il mio backup l'ultimo eseguito è stato fatto in locale alle 2 di questa notte e su Google Drive alle 12.58 di oggi 15 di aprile la sua dimensione è di 24 megabyte poca cosa se io sto per cambiare il telefono se sto per sostituirlo eccetera eseguo il backup sul momento premo e il mio telefono ora fa il backup sul momento cosicché ha fotografato la situazione di adesso ecco che lo sta fisicamente facendo questo è il tempo che ci impiega dipende da quante foto da quante chat avete ma principalmente da quante foto perché in definitiva le scritte occupano pochissimo spazio quindi io adesso sto facendo un backup e una volta fatto sono tranquillo il backup è stato messo da parte e ora ci ragioniamo aspettiamo che abbia finito intanto ci diciamo dove fa questo backup il mio telefono ho fatto scorrere tanto resta lì che lo vediamo dove fa il mio il backup il mio telefono lo può fare al suo interno però è poco utile perché al suo interno cioè poco utile è utile ma al suo interno se mi cade si rompe addio backup se disinstallo l'applicazione senza averlo tirato fuori addio backup e quindi è abbastanza a rischio in quella posizione il backup generalmente lo si fa sulla nuvola su google drive perché la nuvola di riferimento per i cellulari android di solito è google drive e quindi io vedo che ho intanto ha quasi finito vedo che ho un eccolo qua finito le 18.013 vedo che ho un backup quotidiano cioè tutti i giorni il mio telefono fa il backup su un account google che è quello del mio telefono questo è l'account google che il mio telefono usa per registrare whatsapp là dentro quanto spazio occupa il backup su google drive beh nel mio caso questo è il backup me lo dice qua 24 megabyte niente per il mio per la mia nuvola google drive ma non occupa spazio anche perché google drive e l'applicazione whatsapp quindi i proprietari dell'applicazione whatsapp e poi è sempre mondo facebook whatsapp in questo periodo si sono accordati quindi i salvataggi del mio backup non occupano spazio su google drive occupano fisicamente spazio ma google drive non lo conta e quindi non influisce sulla mia disponibilità di spazio e di utilizzo viene fatto il backup là appoggiato là e non consumo risorse ecco se vogliamo dirla così e lo faccio tutti i giorni attenzione che la situazione di adesso copre la situazione di prima cioè questo backup che io ho fatto adesso alle 18.13 ha sovrascritto e cancellato quello delle 12 e qualcosa di oggi viene conservata una sola coppia nel telefono nel vostro dispositivo vengono conservate mi pare 5 copie di backup e di quella cosa non parlo in questo video perché è abbastanza complicato bisogna essere un po' un po' pratici ma ne ho parlato in due video e sotto in descrizione ci sono i link c'è il numero e c'è il link per raggiungere quei video quindi se siete proprio disperati che non riuscite a recuperare le cose così potete guardare quei due video in particolare il secondo vi spiega come tirarli fuori dal cellulare ammesso che ci siano ancora oggi in questa diretta rimaniamo più generici e su quella di utilizzo normale cioè tutti quanti possiamo gestire il backup e il salvataggio delle nostre informazioni di whatsapp e lo facciamo così allora l'account l'ho già impostato basta premerci sopra io ne ho più di uno di solito eccoli qua ne ho diversi di solito sul telefono ne avete uno solo l'account del vostro account google quindi la vostra gmail in definitiva venite qui se non c'è premete e gli dite qual è e scrivete la password in modo che whatsapp si sincronizza e fa il backup la sopra la frequenza del salvataggio vi consiglio quotidiano tanto non occupa spazio e almeno siamo a posto la frequenza può variare mai io non voglio fare salvataggi sono super come dire voglio la privacy assoluta non si salva niente tutto all'interno del mio telefono solo quando tocco esegui backup quindi se metto il pallino qui e ora l'ho fatto eccolo qua manualmente ci penso io decido io oppure una volta alla settimana una volta al mese trovo che non abbia senso ormai in passato occupava spazio e allora potevo ragionarci ma ora il backup non occupa spazio non importa quotidiano e via e quindi salvo le mie le mie chat includi i video ecco io non ho messo includi i video per risparmiare spazio ma effettivamente potrei accenderlo perché tanto non occupa spazio in definitiva impiega un po' di più a farlo ma di solito il telefonino lo fa di notte e quindi io non ho alcun problema e quindi potrei accendere anche includi in video in questo caso sono 2,9 MB da caricare mi fa il calcolo sul momento perché si è accorto che nelle mie chat ci sono anche dei c'è anche un video che è quello lì che abbiamo che abbiamo visto prima quindi questa è l'impostazione se io non faccio questo quando rompo il telefono lo perdo o lo cambio il mio telefono sarà pulito il Whatsapp del mio telefono sarà pulito non c'è niente da fare se io non ho fatto il salvataggio sicuramente i miei dati non ce l'ho e sono andati irrimediabilmente perduti se invece ho impostato il salvataggio me li trovo ho buone possibilità di trovarmele ma insomma me li trovo se sto attento quando faccio le cose ci arrivo e adesso vedremo come fare prima di fare tutta questa cosa vorrei però andare a fare un giro in Google Drive dove abbiamo salvato il mio backup allora ci vado vado in quello da esperimento quindi non il backup di questo telefono ma quello del tablet che ho utilizzato per fare l'esperimento vado su Edge il nostro browser che adesso stiamo utilizzando quando lavoriamo qui in diretta lo rimpicciolisco in modo che si possa vedere sia il telefono che il browser l'account è quello del tablet è quello di esperimento per me tutte le applicazioni Google Drive entro quindi in Google Drive eccomi qua qui ho dentro un sacco di cose questo lo posso chiudere così ho più spazio ho dentro un sacco di cose e per me questi sono gli esperimenti dove è il backup del mio Whatsapp abbiamo detto che Whatsapp fa il salvataggio su Google Drive fammelo vedere per quanto io mi guardi attorno non lo vedo perché il backup non si vede non occupa spazio ma non si vede per una questione di privacy assoluta non si vede io non so se c'è o meglio posso sapere se c'è adesso andiamo a vedere ma di fatto non posso maneggiarlo aprirlo guardarci dentro non si vede al momento 15 aprile 2020 è così non si vede non ne ho la disponibilità in futuro non lo so quindi è perché le cose cambiano continuamente ma posso rendermi conto se è stato fatto se è sincronizzato sì ingranaggio rotella ingranaggio in pratica impostazioni premo vado su impostazioni in questa posizione queste sono le impostazioni del mio Google Drive dentro la voce gestisci applicazioni giù in fondo vediamo cosa copro la sposto un po' sì posso un pochino giù in fondo c'è Whatsapp Messenger Whatsapp Chat History and Media Backup for Android quindi questo mi sta dicendo che i due Whatsapp e Google Drive sono sincronizzati e quindi un backup c'è se io premo qui mi sposto perché ho paura che non lo vediate premo su opzioni scollega da Drive se io lo scollego ciao al backup i due non sono più sincronizzati e quindi dovrò rifare l'operazione in questa cosa qui quindi non ho un controllo più di tanto del backup so che c'è e basta non ci posso non ci posso fare niente d'accordo però tanti me lo chiedono e quindi eccolo qua dove possiamo andare a vedere il backup se c'è eccetera ma io non posso fare nulla a posto quindi appurato che la situazione è questa qui rimpiccioliamo e basta io se so di dover cambiare il telefono sto per usare il telefono nuovo sto per andare al negozio a prendere il telefono nuovo eseguo il backup salvo la situazione poi sono a posto ok ora vogliamo recuperare vogliamo recuperare queste chat però facciamo una cosa prima quindi questo è a posto devo solo vedere come si recuperano lo vediamo tra poco perché io non sono convinto al cento per cento che tutta questa cosa funzioni non sono convinto perché aspettate che c'è sempre la pubblicità non sono convinto perché io ricevo un sacco di email di persone che hanno perso il backup e so quindi cosa succede come dispiace eccetera eccetera e perché questo backup per un motivo o per l'altro viene perduto per cui dobbiamo come dire metterci al sicuro se ho delle chat in particolare che mi dico caspita questa qua però ci tengo tanto è un complimento speciale che ho ricevuto non lo so la voglio devo tenerla allora meglio non affidarla al semplice esegui il backup cioè voglio farla io a mano da qualche parte vediamo come fare quindi qui abbiamo visto è tutto a posto siamo pronti solo per ripristinarlo però prima di cancellare perché io cancellerò whatsapp dal mio telefono prima di cancellare whatsapp dal mio telefono torno indietro e sono nelle chat dentro le chat da qualche parte c'è eccola qua la voce cronologia chat premo e vediamo cosa succede allora dentro cronologia chat io posso lavorare sulle chat posso eliminarle tutte fare piazza pulita del mio telefono via tutte le chat non so quanto quanto le persone vogliano farlo ma c'è svuota tutte le chat tengo le conversazioni ma via tutti i messaggi tutte le foto via tutto archivia tutte le chat mettile tutte da parte nascoste in una schermata dietro non mi interessa nessuna delle tre in realtà quello che mi interessa è esporta chat cioè vuol dire che viene presa dal mio telefono una conversazione una o più ma si fa una alla volta una conversazione e viene messa altrove al sicuro in modo che sia consultabile sia visibile in futuro anche con strumenti al di fuori di whatsapp l'esporta chat prende la chat e la sposta fuori da whatsapp e quindi poi non la quella copia lì vivrà fuori da whatsapp posso guardarla col computer posso stamparla posso fare altre cose ma di fatto posso recuperarla perché la vedo e la posso utilizzare quindi esporto la chat perché questa proprio la voglio assolutamente tenere al massimo delle sue possibilità allora premo esporta chat esporto la chat questa di as maggiolina eccola qua premo allora nell'esportare questa chat voglio includere i media quindi foto e video o solo il testo senza media no no mi interessano anche foto e video di questa chat qui quindi dico includi i media bene adesso mi dice senti dove la vuoi mettere posso mandarla via gmail posso farne la condivido in definitiva quindi posso fare varie cose ma se la esporto per me per conservarla e la voglio mettere in un luogo privato la metto sul mio telefono e quindi o meglio sulla nuvola ecco che indicavo qui stavo guardando la chat la metto sulla nuvola e quindi la salvo in google drive perché là è al sicuro quindi salvo in drive ora scelgo questo è il testo di questa di questa chat quindi salverà la chat con associazione maggiolina un file opus un file jpeg un file mp4 poi vedremo di cosa si tratta dove la vuoi mettere sull'account del telefono io però dato che è un esperimento non la voglio mettere sull'account del telefono andrebbe bene così ma io la voglio mettere sull'account di di esperimento quindi corso tablet 5 dove la mettiamo così sfusa o gli creiamo una cartella in modo che sia più facile trovarla no creiamo una cartella perché io adesso avevo solo tre oggetti uno vocale una foto e un video ma se fosse una chat di una conversazione di 50 cose diverse fa una confusione infinita grazie infinite Icaro per l'uso dello super sticker importantissimo per noi quindi no faccio una cartella e ce la metto dentro quindi premo qui dove c'è la cartella allora torno indietro qui avevo fatto delle prove ecco questa è la situazione il mio drive no né il mio drive andiamo a vederlo dunque eccolo qua quindi io adesso sto lavorando sulla nuvola dal telefono e qui vedo la nuvola dal computer allora agenzia viaggi agenzia viaggi da cancellare da cancellare digitalizzati digitalizzati non è che io devo essere qui computer e telefono io potrei fare tutto dal telefono e questa parte qui non vederla non mi interessa non mi interessa per nulla ma dato che siamo qui che facciamo la diretta ho voluto farvi vedere la corrispondenza ok voglio creare una cartella apposta quindi questo questo disegno che è una cartella con un più piccolino non ho gli occhiali ma secondo me è un più piccolino premo mi fa creare una nuova cartella come la chiamiamo questa cartella allora la chiamo chat potrei chiamarla anche come ne ho voglia però deve avere un senso as maggiolina e ora e ora dico crea la cartella è stata creata da qualche parte eccola qua che è arrivata chat as maggiolina non ho fatto niente stavo muovendo la freccia il computer si è accorto che sulla nuvola è apparsa la cartella chat as maggiolina ok ora sono torniamo sul telefono che è quello che ci interessa sono nella chat as maggiolina seleziono questa cartella seleziono la cartella vuol dire che adesso la mia conversazione verrà salvata sul google drive di corso tablet 5 chiocciola gmail punto com nella cartella chat as maggiolina quindi qui dentro ora la apro così la vediamo adesso è vuota qui dentro quando salverò vedrò comparire le varie informazioni della chat facciamolo salvo e adesso io non faccio niente è in corso il caricamento di 4 file nella chat qui a un certo punto vedremo apparire i file per cui il mio telefono sta salvando ecco che sono già arrivati i file e ne manca ancora uno manca il video perché manca il video perché il video occupa più spazio e impiega più tempo a viaggiare sulla linea del telefono quindi il video arriva per ultimo tra un po' arriverà quindi adesso vediamo se arriva noi nel frattempo guardiamo le altre cose quindi questo eccolo qua il video è arrivato quindi abbiamo visto tutto ora li consultiamo quindi le chat sono state salvate quindi il mio telefono ha fatto il backup delle informazioni quindi di tutte le chat ma io ho anche salvato manualmente questa chat che mi stava particolarmente a cuore questa resta qui sempre e comunque sarò io eventualmente a cancellarla per cui sono a posto facciamo direttamente così prendo il mio telefono e cancello whatsapp perché poi vediamo di ripristinarlo quindi adesso prendo tengo premuto su whatsapp trascino su disinstalla là in alto lo sto facendo col dito perché col mouse non riesco lascio andare dice ma sei sicuro di disinstallare whatsapp? disinstallo disinstallando whatsapp vuoto tutto ok non ci sono più backup vuotato non c'è più tra un attimo lo rimettiamo vediamo invece queste allora questi sono i nostri salvataggi questo backup singolo di questa chat lo posso gestire io allora questa è la chat primo due volte vedo i messaggi che ci siamo scambiati da che ora a che ora chi ha detto cosa Daniele Castelletti ha scritto messaggio di prova a smaggioline esperimenti ha detto grazie ricevuto poi e qui c'è tutta la cronologia della chat che posso stampare posso fare tutto quello che voglio torno fuori questa è una foto la clicco per vederla eccola qua una foto che ho fatto con il tablet in questo caso quindi un po' storta un po' così perché è una foto fatta al volo bene questo è il file audio sentiamolo provo anche a inviarti un messaggio vocale così vediamo come ti trovi perfetto l'avevamo sentito anche prima e questo è il video premo due volte per vederlo e ora dovrei vedere il video eccolo qua questa è una carrellata dei miei due schermi quando mi vedete guardare qua a sinistra sto guardando lo schermo di servizio poi quando mi vedete che guardo così sto guardando voi e lo schermo principale che vediamo perfetto quindi questi fatto questi dati sono qui per me per sempre rimpicciolisco bene adesso torniamo al telefono ho il telefono nuovo ho il telefono vecchio l'ho formattato l'ho ripristinato ho rimesso tutto a posto mi serve whatsapp rivolgo il whatsapp con tutte le mie chat quindi voglio ripristinare il backup vediamo se ci riusciamo allora per installare whatsapp devo andare sul play store come sempre vado qui scrivo whatsapp ecco che mi basta scrivere what per vedere whatsapp installo l'applicazione perché non ce l'ho più la installo attendiamo che il mio telefono la installi questo è proprio in tempo in tempo reale ci siamo ci siamo quasi vedo intanto la chat che va che va tanto mi fanno molto piacere tutte le domande e proveremo poi a rispondere a rispondere al più possibile delle vostre domande vedo un antonio rispondo al volo il backup della chat di whatsapp si fa anche su dropbox non vedo la domanda quindi può essere un'affermazione credo di sì che si possa fare su più nuvole diverse in questo caso io ho solo google drive e preferisco farla lì ok l'applicazione è in installazione ancora non sto facendo niente quindi è arrivata nel mio telefono adesso il telefono la sta reinstallando per renderla disponibile diamogli ancora qualche istante poi ci sarà eccola e ora l'applicazione si apre e io dovrò metterla in funzione sapete che whatsapp va attivato perfetto allora dico apri per iniziare questo è il momento importante se io sbaglio qualcosa nell'installazione dell'applicazione il backup viene perso e se il backup viene perso ciao non lo prendiamo più quindi è vero che c'è il backup su google drive ma bisogna recuperarlo con attenzione in questo momento se io sono disattento qui basta si è passato questo passaggio non si riesce più a fare quindi dobbiamo per forza di cose fare attenzione quindi benvenuto su whatsapp accetto e continuo i termini del contratto numero di telefono ormai il mio lo conoscete facciamo attenzione a scriverlo bene perché se lo scrivete male è un pasticcio ci siamo avanti ora viene fatta la verifica per cui il mio telefono riceve un sms eccetera qui non mi ha chiesto niente ma qui mi sta chiedendo una cosa importante e non posso saltare questo per trovare e ripristinare il backup da google drive consente a whatsapp di accedere a contatti foto media file del dispositivo non posso dirgli non adesso perché altrimenti il backup non lo recupero più continua quindi gli dico consentire whatsapp di accedere ai tuoi contatti consenti consentire whatsapp di accedere a foto contenuti multimediali consenti ah una cosa importante si cancellano solo le chat di whatsapp non i contatti che avete archiviati nel telefono quindi siete tranquilli eccolo qua ho dato il consenso e adesso mi dice trovato backup fatto 21 minuti fa dimensione 24 megabyte ripristini i tuoi messaggi ai media dalla memoria interna del telefono se non li ripristini adesso non potrai farlo in seguito o lo fai adesso o mai più attenzione a questa cosa grazie Adriana per l'uso del super sticker per noi importantissimo quindi è un unico passaggio se sono sopra pensiero se sto guardando da un'altra parte se dico ignora finito il recupero non è più possibile quindi devo fare attenzione e dire ripristina e adesso ci vuole un attimo di tempo perché arrivino questi 24 megabyte i miei erano 24 megabyte se fossero di più ci vuole più tempo e qui sembra tutto a posto 4214 messaggi ripristinati perché nelle chat con i miei familiari magari ci sono tanti messaggi avanti qui mi viene chiesto di inserire il nome questa è la procedura solita di installazione di Whatsapp la foto viene già mantenuta dico avanti e vediamo cosa succede devo dire avanti qua sotto perfetto allora io non ho fatto niente in definitiva stavo ancora guardando dove posare le mani e ha visto che si è ripristinato e subito Whatsapp si preoccupa del backup quando lo vuoi fare quotidiano settimanale mensile o mai quotidiano riprontiamo tutto a posto su quale account ne ho più di uno in questo caso me lo chiede questo è l'account giusto non voglio dirgli a nulla e quindi schiaccio di nuovo su questo perfetto quindi ho ritrovato tutti i messaggi eccoli qua e se clicco dentro rivedo tutte le cose perfetto eccole qua quindi il mio backup ha ripristinato tutto compreso un paio di messaggi che ho ricevuto intanto che eravamo scollegati bene ragazzi direi che ho detto tutto a questo punto per cui diamo spazio alle vostre domande ora bene allora vado a riprendere la riga di prima ringrazio Salvatore grazie infinite Salvatore per l'uso della super chat che per noi è importantissima grazie allora vediamo un po' a che punto siamo quindi domande cerchiamo la riga dov'è eccola qua Mario prima domanda però sta scrivendo Mario per Luigi quindi va bene così Luigi ciao Daniele ma non ha nulla a che vedere con l'argomento di oggi ricevo continuo ok allora dai saltiamolo questa cosa qui del non ha nulla a che vedere con l'argomento di oggi diamo prima spazio a Whatsapp come scarico un'immagine da internet e la invio su Whatsapp questo questo ha poco a che fare con il nostro salvataggio ma è così vediamolo allora immagine da internet vado su un sito qualsiasi mi devo preoccupare dei diritti d'autore quant'altro ci sono un sacco di cose ma vabbè scarico un'immagine questo è un sito questa è un'immagine tasto destro salva immagine con nome voglio l'immagine io salva immagine con nome eccola qua la metto da qualche parte nel mio computer in download la chiamo chat Whatsapp scriviamolo bene chat Whatsapp però questa non è un'immagine beh proviamo forse ho cliccato male riproviamo allora tasto destro salva immagine con nome salva immagine con nome vediamo se ci riesco no non viene su questa immagine qua proviamo allora in un altro sito andiamo su google immagini spiaggia prendiamo solo le immagini libere da diritti d'autore diritti di utilizzo contrassegnate per essere riutilizzate quindi una spiaggia qualsiasi questa la prima tasto destro salva immagine con nome eccola qua questa va bene spiaggia salva la salvo in download nel mio computer fatto ora per come dire poterla inviare tramite il telefonino va beh che potrei avrei potuto fare anche tutto col telefono però è un giro lungo da fare adesso da mostrare qui in diretta io vado su whatsapp web è un indirizzo internet whatsapp web lo cerco eccolo qua forse cercavi whatsapp web questo qua premo mi si apre il mio whatsapp e qui abbiamo fatto varie cose lo devo fare per forza ah già perché ho appena reinstallato devo col mio telefono inquadrare quel codice lì allora intanto lo devo spostare perché altrimenti non ci arrivo allora vediamo se riesco ad ingrandire questo così vediamo il codice eccolo qua quindi col mio telefono che ora vado a mostrare telefono vado sui tre pallini whatsapp web e ora devo sincronizzare devo mettere davanti devo dire l'ok e devo mettere davanti continua per uso della telecamera consenti e devo mettere davanti i due codici eccolo qua col telefonino sto inquadrando il codice fatto ora il telefonino lo posso mettere via e sul computer ho whatsapp web le mie chat vedete associazione maggioline eccetera quindi vado su as maggioline esperimenti questa è la chat scrivo qualcosa anzi non voglio scrivere qualcosa voglio mandare direttamente la foto aspettate che rinpicciolisco un po' ecco qua e prendo questo allegato allega foto non fotocamera immagine perché foto e video ce l'ho già nel computer vado a cercarla in download spiaggia ed eccola qua ciao Daniele ti mando una bella foto invia fatto questo messaggio è andato questa immagine è andata via whatsapp la stessa cosa può essere fatta col telefonino cioè col telefonino facciamolo dai abbiamo visto in tutti in tutti i modi allora telefonino il telefonino è qua telefonino eccolo aspettate che lo voglio in piedi benissimo telefonino vado fuori prendo il browser di google chrome vediamo cosa mi guarda la posta elettronica perfetto allora vado su google google immagini ah devo scrivere adesso spiaggia no facciamo stavolta lago lago cerca benissimo le voglio libere da diritti d'autore vediamo se c'è da qualche parte più recenti colore per farlo devo probabilmente far scorrere così eccolo qua contrassegnate per essere riutilizzate è già impostato ah ecco ci ho premuto sopra lago questo tasto destro ah beh però tasto destro non posso occuparlo col telefonino ci tengo premuto sopra beh in questo caso condividi questa volta lo faccio col mouse condividi e prendo direttamente whatsapp whatsapp quindi diventa più facile as maggiolina avanti questa è la foto però qui vediamo se mi manda la foto dico vai in questo caso mi manda un link non è proprio la stessa cosa e quindi non posso non posso scaricarla da là vediamo se torno indietro allora io posso aprire questa immagine e vediamo se la apro la apro provo su condividi da qua allora dovrei scaricarla salvarla in drive copia negli appunti salviamola in drive diventa un giro un po' lungo però allora lago la mettiamo dentro google drive sfusa in nessuna cartella è diventato un giro lungo ragazzi questa cosa qui allora torno indietro qua nel mio drive lago seleziona salva fatto è in corso il caricamento di un file ora torno vediamo se posso andare direttamente in whatsapp andiamo a cercare whatsapp da qui whatsapp associazione maggiolina voglio una foto da qua sotto allega contatto documento da qui non ce l'ho perché adesso questo è in google drive se vado in galleria vediamo galleria no queste sono altre immagini c'è un giro lungo da fare va bene dai allora andiamo in google drive ci sono un milione di modi per fare questa cosa prendo drive vado a cercare il nostro lago 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 e adesso non lo vedo chissà dove l'ho messo in questo momento non la vedo potrebbe anche essere questo ma non sono sicuro vabbè niente alla nostra amica niente comunque è questo è questo il procedimento adesso non trovo lago dai eccolo lì lago tre pallini condividi e poi bisogna cercare whatsapp è un giro è un giro lungo ci fermiamo qua con questa domanda perché sennò occupiamo tutto il tempo a rispondere a questa a questa domanda e abbiamo e abbiamo visto un po' allora vediamo vediamo un po' cos'altro si dice qua perché luigi l'argomento quello dell'argomento di oggi abbiamo visto di no allora l'altro luigi daniele ambito whatsapp anche i messaggi vocali possono essere salvati su google drive abbiamo visto di sì salvando la chat esportando la chat elvira per luigi va bene roberto comporta un costo inviare un filmato o un'immagine con whatsapp assolutamente no comporta una come dire un consumo di dati o in wifi o di gigabyte del telefonino dipende da cosa sono collegato in definitiva tiziano ciao daniele come si fa a non mandare le foto di whatsapp nella rubrica del telefono bisogna cancellarle quando io ricevo le foto allora ne abbiamo parlato specificatamente in google photo per cui bisogna guardare i video in cui abbiamo parlato di google photo whatsapp e google photo adesso non mi ricordo esattamente qual è il video ma una di queste dirette dell'ultimo periodo ma se io non le voglio vedere non è che va nella rubrica le foto vanno in google photo o vanno in foto del nostro telefonino da qui ebbè sono già queste foto qui io non le voglio le cancello però lo faccio dal telefono quindi telefono di qua vado in whatsapp allora whatsapp lo vado a prendere da qui vado su asma giolina questa foto non la voglio tengo premuto e la cancello elimina per me elimina media in questa chat elimina per me e ciao se ne va via anche il video tengo premuto elimina elimina media in questa chat elimina per me e via dicendo foto elimina e questi non occupano più spazio nel mio telefono adesso e non li trovo più nella galleria perché li ho cancellati quindi ho ricevuto il buongiorno ho guardato il buongiorno poi lo cancello perché tanto sono sempre quelli che girano per cui domani la ricevete di nuovo la tazzina con i fiori eccetera per cui se quelle foto non sono delle foto che vuoi conservare via cancelliamole tutte perché riempiono il telefono altrimenti allora vediamo cos'altro cos'altro si dice Mirko Lexi come si fa a collegare il telefono al computer è un giro lungo Lexi ne abbiamo parlato in questo video qui fra tante situazioni anche in questo video qui dove adesso ho perso il sito amici di Maggiolina www.associazionemaggiolina.it slash amici ne abbiamo parlato in tanti video allora entra ora era quello sull'FTP vediamolo un po' allora facciamo così ne abbiamo parlato in diretta archiviazione e registrazione dirette queste qua così le vediamo tutte tutto su whatsapp domande e risposte l'altro era come perché avere due whatsapp ne abbiamo già detto questo smartphone ed intorni colleghiamo il telefono al computer questo video qui il numero 124 se vedo se vedo bene vediamo se riesco a zoomare numero 124 si 124 torniamo torniamo in piccolo e questo lo chiudiamo così torniamo qua allora poi ciao Bruno Antonio Pierluigi va bene domenico allora ieri per collegare il telefono con il computer ho fatto un pasticcio senza riuscire a collegarmi ok Niang Daniele quale tipo di whatsapp è più aggiornato per il momento c'è un solo tipo di whatsapp il whatsapp e quello è quello più aggiornato al momento per cui lo installi e lo aggiorni quando te lo chiede Raffaele ciao Raffaele allora Filippo come posso avere spazio illimitato su google drive a pagamento se voglio spazio su google drive devo andare su google drive acquista spazio di archiviazione qua ora ingrandiamo la finestra e qua ti vengono date tutte le informazioni 100 gigabyte 1,99 al mese 200 gigabyte 2,99 2 terabyte 10 euro al mese 9,99 al mese le foto invece sono su google photo che è un altro discorso le foto non occupano spazio e qui ne abbiamo parlato ampiamente in google photo ecco l'upgrade viene chiamato google one vedo adesso questa cosa scusate allora vediamo cos'altro si dice dunque Mauro dunque Filippo abbiamo risposto Lexi abbiamo risposto Mauro io tengo sempre disattivato il backup di whatsapp come hai detto te mi arrivano sempre cose inutili è una mia scelta e l'importante è che sia una scelta consapevole per cui ci sta sono d'accordo allora vediamo un po' Aldo ok risponde Alexi installa e collega il cavetto vi state rispondendo tra voi vediamo un po' ancora le altre domande vediamo un po' Nyang dice domanda ma se spostiamo la chat dobbiamo metterla nel nostro nome per forza o no? se esportiamo la chat dobbiamo mettere il nostro nome per forza dobbiamo esportarla nel nostro account per forza perché l'account può avere qualsiasi nome ma deve essere il tuo account per cui va spostata in quella in quell'account non hai un'altra possibilità Anita dice forse avevo anticipato la tua spiegazione grazie Daniele ora è tutto più chiaro benissimo vediamo cosa dice Aldo Aldo dice che si può usufruire del mi piace in effetti grazie ragazzi i mi piace sono di grande aiuto e di grande soddisfazione per noi per cui se avete voglia questo è il momento di mettere un mi piace grazie Aldo allora Luca come fare ad andare sul sito degli amici di Associazione Maggiolina l'ho fatto vedere molto velocemente allora pagina nuova www.associazionemaggiolina.it si arriva sul nostro sito premo invio se voglio andare sul sito degli amici c'è direttamente il link amici sostenitore di Associazione Culturale Maggiolina premo e arrivo su questa pagina sotto ci sono le istruzioni da seguire una volta fatte le cose nelle istruzioni premo su entra ora e arrivo sul sito degli amici di Maggiolina questo è il è il concetto in sostanza dovrebbe esserci anche un video di istruzioni dobbiamo dobbiamo aggiornarlo ah no qui se vuoi farti un'idea di cosa troverai al suo interno puoi guardare qui questo è un video che mostra che cosa c'è dentro in seguito faremo anche un video di istruzioni però è abbastanza semplice in definitiva una volta che compilate in pratica la richiesta tessera questa poi a me arriva la vostra richiesta e poi io vi scrivo un messaggio da leggere e con delle facili istruzioni da seguire poi si arriva qua allora vediamo vediamo cos'altro si dice sempre vediamo un po' Tiziana come fare per andare ok Davide piacere mi chiamo Davide e ho 16 anni ciao Davide mi fa piacere di averti qua con noi allora Luigi queste operazioni sono fattibili anche da Whatsapp web senza collegare il dispositivo al PC non lo so per quanto riguarda il salvataggio della chat siamo qui pallini nuovo gruppo profilo archiviato importante impostazioni disconnetti vediamo le impostazioni sfondo chat no non puoi esportare proviamo da qui tre pallini seleziona disattiva notifiche elimina messaggi elimina chat no non è possibile devi usare devi usare il telefonino e del resto il telefonino ha il suo perché allora Niang è la cartella delle chat dunque è la cartella delle chat si deve aggiornare sempre la cartella non occupa spazio anche se c'è tanta roba allora se esporto le chat quelle occupano spazio perché le esporto manualmente il backup no è gestito interamente dal telefono e non occupa spazio sulla nuvola ma eventuali cartelle quando facciamo noi l'esportazione sì dobbiamo essermi consapevoli Mauro dopo un periodo di tempo io disinstallo l'app per fare pulizia totale sulla memoria del dispositivo perché so che rimane sempre qualche traccia può essere vero sì sicuramente è vero ed è una una buona cosa direi che è una buona cosa dovrei fare una verifica per dirti se è inutile oppure no ma direi di sì per adesso diciamo di sì magari ne parlerò ma in un successivo video c'è un video in questo momento che è molto visto e che mostra come liberare spazio proprio da da whatsapp liberare spazio dal nostro telefono e quel video vede come intervenire su whatsapp per eliminare i contenuti inutili e quindi guadagnare spazio non ho sotto mano il numero vediamo se per caso qualcuno dei nostri amici Sergio se c'è si fa una ricerca liberare spazio sul telefono grazie Sergio allora vediamo un altro un attimo cosa si dice Arnaldo impostazioni chat visibilità dei media lo accendo le foto di whatsapp vanno nella galleria del cell quando tu vedi un media la trovi nella galleria del cellulare dopo Maurizio Daniele le chat salvate possono essere utili per una controversia o per accordi di alcune cose ma poi non rispettate non lo so tu ce le hai non lo so in sede legale se siano accettate o meno però è dimostrabile che quella è la chat dopo non te lo so dire allora Antonio il backup della chat di whatsapp si fa anche su dropbox quello che avevamo visto prima e direi di sì non te lo so dire con certezza perché non lo uso dropbox ma secondo me si può scegliere la nuvola e quindi il servizio cloud sul quale salvare eventuali backup allora Olindo sto provando a fare il backup e il mio iphone mi dice impossibile completare il backup assicurati che sia connesso a internet ed è vero e di avere spazio cloud anche questo è vero ecco in questo caso iphone fa il backup sulla sua nuvola iCloud se non mi sbaglio si chiami però devi avere devi averne accesso deve essere tutto sincronizzato potresti avere anche google drive sul tuo iphone quindi installare google drive su iphone e di conseguenza usare anche drive ma iphone ha la sua e quindi devi trovare il modo di autorizzare quella nuvola lì non ti posso aiutare a distanza vediamo cosa dice Lexi mi dispiace ma devo andare a peccato non ha sentito le risposte allora Umberto si Antonio si può fare benissimo Benito sono emozionato per la mia prima lezione ciao Benito ben arrivato i nuovi arrivati ci fa sempre particolarmente piacere dare un caloroso benvenuto grazie grazie Benito allora saluto Antonio Alessandro e sta rispondendo a Olindo bene Manuela buonasera in ritardo ascolterò la ripetizione e sì perché poi resta la registrata sul canale Umberto figurati ok vi state parlando tra voi vedo un Adriano non so se l'ho già ringraziato per lo super sticker grazie infinite Adriano Andrea fatto in contemporanea con il mio nuovo telefono perfetto ci picchia mi è scappata la chat devo andare a ritrovarla beh era poco lontana poi Giorgio posso fare anche il backup su su mio next cloud personale ce lo siamo da detti ma secondo me sì dovresti trovarlo quando tu selezioni l'account se hai già quel servizio installato dovresti trovarlo all'interno di Whatsapp ce lo puoi dire solo tu che ce l'hai ma secondo me sì allora Fabrizio buonasera a te Fabrizio Salvatore l'ho ringraziato mi ricordo Francesco domanda non idonea alla diretta va bene ormai ne abbiamo già fatte diverse potresti fare qualche diretta Google G Suite per chi sulla versione business allora perché immagino sulla versione business c'è spazio illimitato scusa dovevo fare la domanda sulla diretta di Google Drive no va bene il discorso potrebbe essere un'idea di fare una diretta su G Suite al momento non lo sto usando e quindi non ho i mezzi per farlo G Suite è una versione a pagamento dei servizi Google quindi con servizi professionali potrebbe essere un'idea non sarà breve ma sicuramente la faremo in un secondo momento allora Promat ciao a te Domenico Dropbox è simile a Google Drive e OneDrive sì è un servizio nuvola che c'è da tantissimo tempo tra l'altro e sì è simile Raffaele 364 eravamo prima sì probabilmente è uno dei nostri dei nostri record grazie per per l'ascolto allora vediamo cosa dice saluto Antonio Attilio con il mio iPhone riesco solo ad avere sul PC il Whatsapp a pagamento ma è un po' costoso c'è un'altra possibilità non te lo so dire non uso iPhone da un po' e quindi non sono aggiornato su questo Veronica come si crea un gruppo? beh come si crea un gruppo? lo possiamo vedere al volo vediamo se ci riusciamo allora torno sul mio telefono eccolo qua torno nelle chat eccoci qua tre pallini nuovo gruppo e qui devo scegliere le persone non posso non voglio andare oltre per non per questione di privacy anche se si vedono solo i nomi e quindi non fa niente si scelgono le persone poi si va avanti e si crea il gruppo viene chiesto il nome del gruppo una foto un testo e poi poi si crea magari mi organizzerò in un altro momento per mostrarlo però ci sono vari video su Whatsapp in cui parliamo probabilmente anche dei gruppi con la nostra app si possono si possono trovare facilmente facciamo un viaggio veloce quindi torniamo fuori qui vado sul sul nostro telefono diamo un attimo al telefono vado a cercare l'app Maggiolina che si può scaricare gratuitamente dal Play Store eccoci e cerco vediamo Whatsapp gruppi cerca Whatsapp gruppi quindi adesso qua non vedo Galateo ed intorni come sopravvivere ai gruppi ne abbiamo parlato in varie circostanze quindi ne abbiamo parlato tante volte per cui vi invito a scaricare questa app che è gratis e a cercarvi l'argomento qui vengono fuori i numero dei video e trovate tutto guardate quante volte abbiamo parlato di Whatsapp solo tra i nostri corsi l'ultima domanda e poi ci fermiamo vediamo allora Emilio ripristino le chat salvate consumo dati vero sì ma poco dipende da quanti dati hai salvato però se ti servono si fa si fa Luigina ho visto che hai archiviato un messaggio come potrai riprenderlo andiamo a vedere allora telefonino telefonino andiamo a cercare Whatsapp notate che premo su questo pulsante così vedo tutte le applicazioni aperte Whatsapp allora qui premo chat archiviate se io premo su chat archiviate vedo le chat archiviate ora non lo faccio perché sappiamo che ho una chat della quale voglio mantenere per il quale voglio mantenere la privacy basta premere lì e viene fuori l'elenco delle chat e a quel punto toccando la chat la si vede ci scrive eccetera appena scrivo o ricevo messaggi me la ritrovo di qua e sono subito sono subito pronto l'ultimissima l'ultimissima domanda la prendo così a caso giro un po' per non andare in ordine vediamo la domanda fortunata vediamola così dunque stavo guardando di vederne una che fosse una domanda allora Luca Daniele mi dice così 404 that's an error allora immagino che si riferisca all'entrare nel sito amici di Maggiolina se io vado sul sito amici di Maggiolina arrivo in questa pagina e quando premo qui mi dà un errore significa che non sono loggato allora facciamo questa cosa significa beh non posso farlo vedere significa due cose o che non sono loggato cioè vuol dire che quando sono in Google qui non c'è il mio account inserito ma c'è scritto accedi o c'è un altro account oppure come capita spesso succede questo quando voi compilate il modulo di richiesta tessera a me arrivano i dati con la richiesta della tessera io rispondo mandando un messaggio con le istruzioni all'interno di quel messaggio c'è scritto accetta invito perché entrare nel sito amici di Maggiolina è una volontà vostra molte persone ci danno un sostegno ma poi non sono interessate ad entrare nel sito amici di Maggiolina quindi noi a quelle persone non mandiamo messaggi un unico messaggio di ringraziamento e benvenuto se uno vuole far parte del gruppo entrare nel sito amici di Maggiolina preme su accetta invito se non preme su accetta invito e niente siamo contenti lo stesso però quando fa entra ora gli da errore 404 perché non si è autorizzato a entrare nel sito in quel caso scrivetemi a info chioccio l'associazione maggiolina.it in modo che io possa mandarvi un nuovo invito perché quel precedente sarà scaduto durerà 24 ore credo e poi non c'è più bene ragazzi ci fermiamo qua siamo arrivati al nostro limite orario quotidiano vi ringrazio della presenza allora andiamo qui sul sito amici di Maggiolina dei tanti mi piace delle super chat degli abbonamenti vedo che ci sono tanti abbonati in questa in questa chat e vi do appuntamento domani sera alle 18 dove chiacchiereremo di qualcosa d'altro insieme sempre relativo al mondo computer telefono eccetera ragazzi grazie grazie infinite e buona serata ciao ciao